buongiorno da chioggia e in particolar modo da sottomarina oggi vi parliamo di murazzi murazzi che è una parola che decisamente per chi manca la z come me è una parola impegnativa cosa sono i murazzi sono opere di difesa del tratto terminale delle laguna veneta tra pellestrina e chioggia a rinforzo del litorale che separa la laguna dal mare questi murazzi erano divisi in tre parti una sull'isola del lido che inizia a cabianca e finisce dopo circa 5 chilometri in prossimità degli alberoni una seconda sull'isola di pellestrina poi vedremo anche le immagini che inizia a santa maria del mare e termina dopo 10 chilometri nei pressi di caro man e la una terza nel litorale di sottomarina che inizia da forte san felice e finisce dopo circa 1255 metri al centro di sottomarina vecchia a sottomarina quest'ultimo murazzi un tempo continuava per altri 570 metri ed era costituito di argine e muri ma ora è completamente demolito e ne è parziale testimonianza un marciapiede marmoreo nella zona di pellestrina e caro man il mar adriatico e la laguna di venezia sono separati praticamente solo da questa diga l'ideazione di questa opera fu di padre vincenzo coronelli e risale al 1716 questi murazzi vennero danneggiati dalle mareggiate del 1825 e soprattutto il 4 novembre 1966 quando il loro cedimento fu una delle cause dell'eccezionale acqua alta che sommerse la città di venezia e già che siamo in questi paraggi parliamo anche dell'ottagono di caro man l'ottagono caro man è un'isola della laguna veneta ed è situato di fronte alla località di caro man presso penestrina ed è proprietà del demanio purtroppo l'ottagono di caro man attualmente si presenta in stato di abbandono e di grave degrado tanto che molte strutture conservate al suo interno risultano pericolanti il prossimo giro qua chioggia parleremo delle tenue le tenue che sono con formazioni rocciose assolutamente uniche per la struttura e per gli organismi che le abitano e come sempre ringraziamo costantino boscolo per le riprese aeree che ha fatto straordinarie alla prossima ciao ciao ciao